Va con una prostituta e viene picchiato e rapinato dalla donna. È accaduto a Benevento, dove un 65enne della città ha denunciato l'episodio. L'uomo ha spiegato di aver raggiunto in mattinata la zona del viale Principe di Napoli, a Rione Ferrovia, dove ha agganciato una prostituta straniera. L'ha fatta salire in auto e si è diretto verso il luogo nel quale lei è solita fornire prestazioni sessuali a pagamento. 15 euro il prezzo fissato per quella di cui avrebbe dovuto beneficiare l'uomo. Ma l'accordo, che sembrava essere stato trovato senza problemi, è saltato quasi subito. Perché la donna, secondo quanto sostiene la vittima, ha cambiato all'improvviso atteggiamento e dopo aver impugnato una mazza ha colpito la schiena e il malcapitato, costringendolo a tirar fuori dal portafogli la somma di 80 euro. Poi, prima di allontanarsi, lei lo ha anche obbligato, minacciandolo, a sfilarsi l'anello che portava e a consegnarglielo.